Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo mudra, rudra, mudra, che è il mudra del plesso solare. È il mudra anche connesso all'elemento terra e quindi un mudra che produce effetti positivi sugli organi associati all'elemento terra, in particolare stomaco e milza pancreas. Però può essere utile anche in caso di vertigini, di problemi avuti al cuore e anche di problemi legati all'affaticamento in generale del corpo. Come si pratica questo mudra? È semplice, si unisce il pollice all'indice ed all'anulare. Quindi pollice, indice, anulare, stendiamo il medio e il mignolo e manteniamo questa posizione per alcuni minuti. In caso di disturbi del tipo di quelli elencati, manterremo il mudra per almeno 5 minuti, più volte al giorno, almeno 3 volte. Quindi mettiamoci in questa posizione, possiamo anche abbassare le mani, per cui il mudra può essere tenuto in tutte quelle situazioni in cui abbiamo le mani libere e abbiamo un po' di tempo per il nostro benessere. Chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo, respiriamo lentamente e concentriamoci sulle sensazioni che il corpo ci dà assumendo questa posizione. Il tocco deve essere leggero, le dita medie, il medio e il mignolo devono essere ben stese, mentre pollice, indice e anulare si toccano. È un mudra che come dicevo può essere utilizzato anche in caso di astemia, di affaticamento generale. Respiriamo profondamente, eliminiamo pensieri e preoccupazioni, concentriamo la nostra attenzione qui e ora sull'esercizio che stiamo facendo. Grazie a tutti. Spogliamo la lingua sotto il palato, respiriamo con il naso, la respirazione è profonda ed è addominale. Spogliamo il mudra, apriamo gli occhi e finisce. Spogliamo la pratica e consiglio di mantenere questa posizione più a lungo, quindi diversi minuti, più volte al giorno, in tutte quelle situazioni in cui risentiamo la necessità e abbiamo le mani libere che possano occuparsi del nostro benessere. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao e bye. Grazie.